In apertura abbiamo il racconto straziante di quanto avvenuto a Martinsicuro dove un bimbo di poco più di un anno in maniera che è tutta ancora da spiegare è caduto, è precipitato dalla manzarda, dal balcone della manzarda dove il piccolo viveva insieme naturalmente alla famiglia ed è morto sul colpo. A raccontarci questa storia in diretta è il collega Luca Pompei. Buongiorno Luca. Buongiorno a te Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Si dicevi giustamente tu una vera e propria tragedia accaduta ieri sera poco dopo le 22 in una palazzina di via Marco Polo 31 a Martinsicuro, una traversa del lungomare Europa. Un bambino di poco più di un anno, un anno e mezzo, si è aggrappato alla finestra della manzarda dove abitava ed è precipitato giù. In quel momento i genitori erano in un'altra stanza, sono accorsi subito ma ormai per il bambino già non c'era più nulla da fare. Hanno preso in braccio il bambino e hanno cercato disperatamente aiuto. Tra poco sentiremo anche la testimonianza diretta di un ristoratore che ha il ristorante a pochi metri dall'abitazione e non c'è stato nulla da fare, sono arrivati i soccorsi ma il bambino purtroppo era già deceduto. Da capire la dinamica probabilmente il bambino si è aggrappato alla finestra in qualche modo e ha perso l'equilibrio. I genitori, ripetiamo, erano in un'altra stanza e lì per lì non se ne sono accorti. I carabinieri hanno sentito i genitori per quasi tutta la notte per cercare di ricostruire la dinamica di questa tragedia e già nel pomeriggio il magistrato di turno dovrebbe già fare richiesta per l'autopsia sullo accorpicino di questo bambino, ricordiamo, di nazionalità nigeriana. Una vera tragedia, dicevamo, un'intera comunità, quella di Martin Sicuros, scioccata da questo episodio. Noi stamattina nella diretta social che abbiamo proposto sul profilo Facebook di Rete8 abbiamo raccolto la testimonianza di Matteo, il cuoco del ristorante Mamma Paola che ha visto tutta la scena ed è ancora a distanza di diverse ore particolarmente scioccato. Possiamo ascoltarlo. Ieri sera verso le nove, questa è un'attività lavorativa, e ad un certo punto abbiamo sentito urlare, urlare, allora ci siamo affacciati per vedere cosa fosse successo. C'era questa signora appunto di colore che urlava, il bambino è prenduto al balcone, vedendo anche il padre con questo bambino in braccio abbiamo subito avvertito l'autorità che sono arrivato il bestialetto, è stata una bella botta ieri sera, una cosa in aspettata. Vi vedo, stamattina ho parlato anche con altri tuoi colleghi, siete ancora molto scioccati. Siete ancora molto scioccati, perché questo bambino appunto spesso sta qui davanti al marciapiede a giocare con i genitori, lo vedevamo di vista, veramente a pensare quello che è successo, siamo veramente stupi. Quindi si sarà, insomma, si sarà arrampicato sulla finestra, immaginiamo noi. Sì, sono una nuova autorità che sono venuta in grado, anche per vedere al balcone, purtroppo sono cose che nessuno se lo aspetta, ma voi i bambini, i piccoli, sono cose che uno, insomma, si può pure aspettare. Certo, aveva, quanto aveva? Si è detto un anno, ma era più grande il cielo? Un anno, circa, più o meno quella lì, a metà. Era veramente un bambino bellino, dovevamo spesso qui giocare solo al mare, sulla pantina. Veramente è stata una botta grossa qua. Una domanda, è un balcone o una finestra questa manzarda? No, no, si era detto inizialmente, se trattasse di un balcone, in realtà è una finestra di una manzardina dove il bambino aveva la camera da letto. Lui, adesso da capire, perché era solo in quel momento in camera, come è riuscito ad aggrapparsi a questa finestra. Poi, se avete visto le immagini, dopo la finestra manzardata c'è la tettoia, quindi lui sarà scivolato sulla tettoia e precipitato giù da un'altezza di poco più di 10 metri, perché il balcone in effetti comunque è una ringhiera e non poteva ovviamente passare la ringhiera, il bambino è ancora troppo piccolo. Invece è caduto proprio da quella finestra dove in qualche modo è arrivato ed è precipitato giù. Ripetiamo, nel pomeriggio dovrà essere disposta l'autopsia sul corpicino di questo bambino che come avete sentito da Matteo era conosciutissimo in zona perché giocava sempre lì nel tratto di spiaggia di fronte via Marco Polo, insomma era una gioia per tutti questo bambino ed è davvero una comunità completamente scioccata. Quindi che tu abbia potuto capire, insomma così, adesso sommariamente questa è l'unica ipotesi al momento, quella dell'incidente, giusto? Decisamente sì perché in quel momento il bambino era solo in camera, i genitori erano in un'altra stanza, si sono accorti in un secondo momento di quanto era accaduto, sono scesi giù di corsa e ormai hanno visto purtroppo il corpicino del loro figlio ormai sul vialetto di quella palazzina e ormai già privo di vita. Grazie allora, grazie Luca Pompei che ci ha raccontato proprio di rientro da Martinsicuro questa tragedia. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale.